Il Paradisi delle Signore Nove, Chi c'è nel cast, Gian Lorenzo Botteri in scena, Delia presente. L'appuntamento con il Paradisi delle Signore Nove riprenderà regolarmente da settembre con i nuovi episodi in prima visione assoluta e intanto vanno avanti le riprese che sono attualmente in corso presso gli studi videa a Roma. I vari attori rientrati sul set stanno, di volta in volta, fornendo degli spoiler sul ritorno in scena dei loro personaggi per la gioia dei fan, che attendavano notizie in merito a quanto succederà. È questo il caso di Luca Ferrante, che sui social ha postato uno scatto in cui annuncia la presenza del suo Gian Lorenzo Botteri e quello dell'attrice Ilaria Maren che ha confermato il ritorno della sua Delia. Chi c'è nel cast dei Il Paradisi delle Signore Nove e le anticipazioni rivelano che le riprese andranno avanti per tutta la stagione estiva, così da riuscire ad assicurare un bel po' di episodi da trasmettere a partire dal 9 settembre. Sul set sono ritornati diversi volti di punta, giorno in cui è prevista la prima puntata della stagione. È questo il caso di Roberto Farnesi, che tornerà a vestire i panni del perfido commendatore Umberto Guarnieri. Ci sarà anche la Contessa Adelaide interpretata da Vanessa Gravina e il giovane Matteo Portelli, che avrà il volto dell'attore Danilo D'Agostino. Gian Lorenzo Botteri confermato, torna anche Delia tra coloro che in queste ore hanno postato dei contenuti social, confermando la loro presenza sul set, spicca anche l'attore Luca Ferrante. Il suo Gian Lorenzo Botteri era entrato in scena nella passata stagione, chiamato per curare la collezione maschile del Paradiso per volere di Vittorio Conti. Nonostante la partenza e l'uscita di scena di Conti dalla nona stagione, Gian Lorenzo continuerà a esercitare il suo incarico all'interno del grande magazzino milanese. Tra i volti confermati c'è anche quello di Ilaria Maren, anche lei entrata a far parte del cast nella passata stagione vestendo i panni della Venere Delia. Le vicende personali, sentimentali e lavorative della commessa saranno anche al centro della nona stagione, questa mattina l'attrice era sul set e ha postato un contenuto social immortalando il suo collega Pietro Masotti, alias Marcello Barbieri nella soap. Non ci saranno repliche estive per la soap in attesa dei nuovi episodi, però, gli spettatori dovranno fare a meno della soap opera per tutta la durata della stagione estiva. Le repliche sono state sospese dal daytime di Rai 1 e non sono previste riproposizioni neppure sul canale Rai Premium, dove invece verranno proposte le repliche di un posto al sole e quelle di altre soap trasmesse in passato sui canali della Rai come Incantesimo e Sottocasa.